Pioggia di gol al centro sportivo Gudini tra Rieti e Castelnuovo. Finisce 4-3 per gli abruzzesi capaci di rimontare l'iniziale svantaggio. Di Fabio opta per Fagioli in attacco e Foglia sulla tre quarti, mentre sulla mediana c'è Bregasi con Loviso. Dopo la squalifica torna dal primo minuto in difesa capitante Renzio. In casa Rieti peseranno le assenze di Marchi, Tirelli e di Fioretti passate in settimana al Pineto. Arbitra Luongo di Napoli. Al primo affondo i padroni di casa passano in vantaggio. Sulla destra sfonda Gualtieri che mette in mezzo un pallone velenoso, Natale riesce solo a smanacciare il più lesto di tutti e Galvagno che di testa mette in rete. Il Castelnuovo non riesce a rendersi pericoloso, allora Rieti prova subito a scappare, ma questa volta Natale si fa trovare pronto e disinnesca la punizione calciata da Sedac. Si aprono gli spazi e il Castelnuovo comincia a creare giocate pericolose. La prima al diciannovesimo con De Gidio che al volo conclude a lato. La difesa Rieti è attenta ma non può nulla al ventisettesimo quando Loviso da calcio piazzato disegna una parabola a Berfarda che batte Scaramuzzino. Un minuto i neroverdi compiono il sorpasso, Scaramuzzino sbaglia l'appoggio ad un suo compagno e ne approfitta Fagioli che viene esteso in aria. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e decreta la massima punizione. Dal dischetto si presenta Loviso che batte il portiere e in due minuti ribalte il risultato. Ma anche il vantaggio terramano dura pochissimo perché dagli sviluppi di un calcio d'angolo scogna Emilio sotto misura batte Natale. Sotto una pioggia battente la partita si fa vincente e al 34esimo l'occasione per passare in vantaggio capita sulla testa di Abercon ma il giocatore del Rieti da distanza ravvicinata conclude debolmente. Gol mangiato, gol subito. Questa volta è Fagioli ad approfittare di una leggerezza della difesa reatina e trafiggere con delizioso pallonetto il portiere in uscita. Sul finale di primo tempo il Castelnuovo ci prova ancora ma Scaramuzzino è bravo a distendersi e dire di no ad Egidio. La ripresa regala ancora emozioni. La prima all'undicesimo con il Rieti che perviene al pareggio. Errore in fase di disimpegno di Bregasi che si fa soffiare il pallone da Vari con il numero 10 che a tu per tu con Natale non sbaglia. Tutto da rifare per Terenzio e compagni ma al 27esimo in Rieti rimane in dieci uomini. Fallo sciocco da dietro di tiraferri su Foglia che lascia i suoi in inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora di gara. Allora il Castelnuovo ne approfitta subito con lo stesso Foglia che al 31esimo si mette in proprio e da 25 metri fa partire un bolide che prima bacia la parte interna del pallone e poi finisce in rete. In dieci uomini la reazione del Rieti non arriva. Anzi è il Castelnuovo ad avere l'occasione per arrotondare il punteggio ma il rigore concesso per fallo su Fagioli viene fallito da Di Ruocco. Con questa vittoria il Castelnuovo mantiene saldamente la seconda posizione in attesa del derby di domenica prossima contro il Real Giulianova. Questa è una squadra di uomini veri e oggi ci tenevano in particolar modo dopo la prestazione poco brillante di mercoledì di riprendersi quello che abbiamo perso appunto mercoledì. Quindi sono scesi in campo con una cattiveria disumana. Nonostante siamo andati sotto, nonostante l'infortunio di Lorenzo Bregas, la squadra era convinta di poter vincere questa partita e ha fatto di tutto per vincerla. Quindi devo fare veramente complimenti a questi ragazzi perché oggi hanno dimostrato di valere questo campionato e adesso bisogna continuare su questa strada perché domenica abbiamo un'altra partita sulla carta come quella di mercoledì scorso e dobbiamo rispondere in maniera diversa. Massimo insieme a Francesco sono i papà di questa squadra e li tengono sempre sulla corda ma sempre con i modi giusti e con le maniere adatte per farli rendere al massimo. E poi ci sono questi ragazzi, Foglia, anche lo stesso Fagioli che vanno in campo e danno tutto. Foglia lo puoi mettere a fare qualsiasi ruolo, ti dà sempre lo stesso rendimento. Quindi dobbiamo solo fargli i complimenti a loro, a quelli che in questo momento non stanno giocando perché anche loro si allenano in una maniera impressionante e quindi permettono anche ai propri compagni di stare tranquilli e sereni. Poi abbiamo fatto la grande ingenuità di rimanere in dieci, oggi sarà una gara particolare in cui abbiamo fatto troppi errori e abbiamo pagato tazze, quindi è giusto così, si perde, si riarchivia come sono abituato a fare. Il problema è un altro, è che qui troppa gente si era illusa di qualcosa di grandioso. Noi non siamo all'altezza, noi abbiamo dei ragazzi fantastici, però bisogna rimanere con l'umiltà di migliorarci nel quotidiano. Se capiamo questo credo che possiamo fare un bel campionato, altrimenti se si mettono ansia e pressione a questi ragazzi che non lo meritano, bisogna stare sereni, oggi stavamo in piena emergenza, però abbiamo fatto una gara battagliando, lottando contro una signora squadra, oltretutto molto ben messa in campo, una squadra che gioca insieme da diversi tempi, con dei giocatori come Loviso in mezzo al campo che fa la differenza. Per cui uno va a casa con la consapevolezza che noi dobbiamo comprendere quali sono i nostri punti deboli. Il momento in cui noi comprendiamo che i nostri punti deboli devono diventare i nostri punti di forza, allora potremo continuare a divertirci come fatto fino ad oggi.